Insalata di patate estiva, benvenuti nel canale di Tavola Serena, andiamo a preparare insieme questo piatto semplicissimo ma davvero gustoso. Iniziamo andando a pelare le patate, volendo potete anche tenere la buccia se preferite, io di solito preferisco rimuoverla. Vado a tagliare poi le patate, nel mio caso erano patate piuttosto piccole, a spicchi, ma in realtà potete anche tagliarle a cubetti, come preferite. Una volta che abbiamo tagliato tutte le patate andiamo a inserirle all'interno di un ampio tegame antiaderente, vi consiglio il più ampio che avete. Andiamo ad aggiungere olio, origano e sale. Molto semplice, mescoliamo il tutto e ci spostiamo sui fornelli. Dobbiamo cuocere a fuoco inizialmente un po' più alto, mescolando per farle rosolare per bene, dopodiché andiamo a distribuirle bene sul fondo cercando di non farle sovrapporre troppo. Ovviamente dipende dalle dosi che fate, se fate una dose più abbondante magari si sovrappongono un po'. Copriamo con il coperchio e lasciamo cuocere a fuoco medio. Di tanto in tanto passiamo, diamo una mescolata, risistemiamo sul fondo le patate e riposizioniamo il coperchio. I tempi di cottura dipendono anche dal tipo di patate utilizzate, di solito sono 15-20 minuti. Dobbiamo tenere delle patate con una crosticina leggermente croccante, ma comunque ben cotte all'interno, quindi morbide dentro e belle croccantine fuori. Questa è la ricetta che fa sempre mia mamma per fare le patate che di solito vengono fatte al forno, ma in realtà noi le facciamo sempre al tegame. Andiamo poi a prendere una carota, andiamo a spuntarla e a eliminare la buccia, la tagliamo e la inseriamo direttamente all'interno del mixer. Dopodiché aggiungiamo erbe aromatiche a piacere, io ho scelto del prezzemolo e del basilico, quindi estremamente semplice e basica diciamo, ma voi potete optare un po' per quello che preferite. Ovviamente in base all'erba aromatica che andremo a utilizzare otterremo una salsa completamente diversa rispetto a un'altra. Andiamo a frullare le carote all'interno del mixer fino a quando otteniamo una consistenza piuttosto fine e poi andiamo ad aggiungere lo yogurt greco, nel mio caso è senza lattosio. L'importante è che non sia zuccherato, quindi yogurt bianco basico, un filo d'olio, aggiungiamo il sale che sarà anche il condimento per tutta l'insalata che andremo a fare, diamo un'ulteriore frullata e otterremo una crema buonissima al gusto delicato di carota, prezzemolo basilico, per me ci stava benissimo ed è anche un modo per inserire un'altra verdura all'interno dell'insalata. Andiamo poi a prendere semplicemente dei pomodorini che andiamo a tagliare a metà e inserire all'interno di un'ampia pirofila, aggiungiamo poi altre verdure a scelta, se avete dei cornetti giacotti va benissimo, io ho aggiunto un cetriolo tagliato semplicemente a rondelle, potete aggiungere anche dei peperoni giacotti, quello che avete nel frigorifero, anche della rucola, dell'insalata, quello che volete. Andiamo ad aggiungere le patate che nel frattempo si saranno intiepidite e la salsa che abbiamo preparato con le carote e lo yogurt e l'insalata è praticamente pronta. Ora non vi resta che mescolare il tutto, cercando di essere un po' delicate altrimenti andiamo a spappolare tutte le patate e poi trasferiamo in un piatto da portata. È un piatto semplicissimo, facile da fare, una bella insalata bella ricca e completa e credetemi davvero buonissima. Io ho completato con qualche fiorellino di basilico che è opzionale e il risultato è stato fantastico. Io spero che questa insalata di patate estiva vi sia piaciuta, se è così lasciatemi un pollicino in su, iscrivetevi al canale per non perdere tutte le future ricette. Qui vi lascio un'altra idea per un'altra insalata estiva e noi ci vediamo qui nel prossimo video. Ciao!